Era uscito per andare a lavoro la mattina senza poi più rientrare. L'indomani la moglie preoccupata ha iniziato a chiamare familiari e amici presentando infine denuncia di scomparsa alla stazione dei carabinieri di Asolo. Alle 9 e 30 la tragica scoperta. Il corpo di Bledar Dedia, 39 anni di origini albanesi, è stato ritrovato da un amico nella boscaglia in via Colli a Paderno del Grappa con diverse ferite da arma da taglio, anche da difesa, ed è stato subito chiaro che l'uomo la notte prima era rimasto vittima di un omicidio per mano di chi saranno i carabinieri della compagnia di Castelfranco e del nucleo investigativo di Treviso a cercare di definirlo. Dipendente del ristorante e pizzeria Antica Abazia disse Monzo. Dopo il turno Dedia si era portato in quella zona a bordo della sua macchina una Mercedes bianca dove doveva evidentemente incontrare qualcuno. Il cadavere è stato rinvenuto ad alcune decine di metri di distanza dall'auto in mezzo alla vegetazione con i pantaloni abbassati. Sarà l'autopsia a stabilire se il 39enne abbia avuto un rapporto sessuale fatale tra i fendenti ricevuti, una coltellata che ha perforato il polmone. Sul posto a rinvenimento del corpo si sono portati i carabinieri coordinati dal comandante provinciale Massimo Ribaudo e il sostituto procuratore Barbara Sabattini. L'arma del delitto non è stata trovata, al termine dei rilievi la Mercedes è stata portata via con il carro a trezzi e il corpo rimosso dalle onoranze funebri. Anche alcuni amici della vittima sul luogo di ritrovamento sbigottiti. Era bravissimo, una persona per bene che lavorava, guardava la sua famiglia. Siamo un po' tutti soccati perché nessuno si aspettava questa notizia. A lungo muratore per un'impresa di Castelcucco, quindi giardiniere e tutto fare alla pizzeria di Semonzo. Dedia era sposato e padre di una bambina di dieci anni e di un bimbo di due. Abitava con la famiglia in via Tiepolo ad Asolo, la moglie è casalinga. In caserma il fratello del 39enne ha raccontato l'angoscia della donna. Dopo le tre dunque più nulla. Le indagini dei carabinieri non escludono nessuna pista. Al setaccio le frequentazioni della vittima, anche quelle via social. Il 39enne potrebbe essersi dato appuntamento con qualcuno che si è poi rivelato violento, capace di uccidere. Fondamentale sarà l'esame del contenuto del suo smartphone e dei dati telefonici di quell'area, così come i passaggi di auto ripresi da eventuali telecamere, anche se la zona è molto isolata.